Ben ritrovati con le informazioni di Piave TV e il nostro accaduto ospite Gino Zottis, Presidente dell'Accademia d'Arte Vittorio Marusso. Presidente, ancora un anno tutto da discutere e da inventare? Certamente sì, abbiamo già dovuto inventare l'anno scorso dove l'attività dell'Accademia è rimasta viva con soluzioni che hanno permesso di utilizzare il virtuale, il digitale fondamentalmente, quindi con corsi online e anche con attività di rappresentazione che utilizzavano proprio questi strumenti. Oggi con un mese di ottobre abbiamo ripreso a pieno ritmo l'attività con tutte le norme che la prudenza e le disposizioni normative danno e quindi ci auguriamo che con un po' di fatica ma che possa essere un anno proficuo e continuativo soprattutto. Il racconto, questa sera ho visto già delle immagini molto belle sul racconto, c'è qualcosa di nuovo? Noi abbiamo aderito alla proposta e al progetto le storie che ci raccontiamo, promosso da Anteas e da altre associazioni di volontariato di questa città, l'abbiamo fatto con molto piacere e abbiamo utilizzato quello che è la nostra mission, quindi la rappresentazione di storie attraverso le arti figurative con tecniche diverse, l'olio su tela, il disegno, la grafite, l'incisione, l'acquarello, il modellato attraverso delle forme specifiche. Abbiamo cercato di esprimere le tecniche che i nostri insegnanti insegnano in Accademia per associarci a questa metodologia di racconto dove assieme alla parte grafica, alla parte illustrativa tradizionale, ci sia anche una rappresentazione di storie attraverso le arti figurative. Ho visto un buon concorso di pubblico tra l'altro in sala. Certamente ha appassionato noi, i nostri insegnanti che hanno seguito e che loro stessi si sono messi in discussione elaborando dei lavori e poi vedo che ha appassionato certamente anche chi invece ha scritto le storie in modo tradizionale. Dunque un successo è un buono auspicio. Certamente vivacità, che viene dimostrata non solo dalla presenza del pubblico che ha apprezzato il lavoro, ma anche dalla vivacità con cui questo lavoro, questo libro, ha trovato il suo compimento sia nella parte di scrittura che nella parte delle arti figurative.